Oggi voglio parlare di un problema un po' particolare all'interno della galassia del mal di schiena e cioè la spondilolistesi. Vedremo velocissimamente di che cosa si tratta e come andarla ad affrontare. Si parla di spondilolistesi quando si riscontra nelle radiografie una vertebra, tipicamente le ultime vertebre lombari, in posizione avanzata rispetto a quelle sottostanti, quindi una sorta di scivolamento anteriore. Può essere un qualche cosa di totalmente asintomatico, può essere un qualche cosa di congenito, può essere un qualche cosa di acquisito, ma si tratta di un problema leggermente diverso dai classici mal di schiena. Perché? Perché noi siamo abituati a vedere dolori alla schiena causati essenzialmente da rigidità muscolare. Ci muoviamo male, ci muoviamo poco, ci muoviamo troppo, abbiamo muscolatura contratta, insomma ci fa male la schiena per motivi molto spesso legati ai muscoli che poi si tirano dietro le vertebre. Però come ne andiamo a trattare, come ne andiamo a migliorare? Cercando di rinforzare e ma soprattutto di distendere i muscoli più contratti. Nel caso della spondilolistesi, visto che ho fondamentalmente una situazione di instabilità, una situazione di scivolamento anteriore, i lavori di distensione dei muscoli di allungamento possono non essere particolarmente indicati, perché fondamentalmente vado a mobilizzare, a muovere una situazione che lo è già anche troppo, molto probabilmente non vado a fare un danno vero e proprio a peggiorare la situazione, ma sicuramente non sono i tipi di lavori più indicati. Sono più indicati gli esercizi di stabilizzazione, quindi esercizi di rinforzo attivo nella quale la muscolatura fa fatica, non cerca di distendersi, ma cerca di rinforzarsi. Rinforzandosi aumenta la stabilità che garantisce la mia colonna e quindi la mia spondilolistesi. Ora vediamo tre esercizi che possono essere particolarmente utili. Uno è un grande classico, e cioè il plank. Il plank però, se voglio massimizzarne gli effetti, posso prima provare un po' la posizione in ginocchio. Mi metto in ginocchio e provo la posizione che andrò a tenere quando sono in plank, che non deve essere questa con la schiena inarcata, perché indice che gli addominali non stanno tenendo, ma deve essere questa o ancora meglio, visto che voglio massimizzare il lavoro a lordosi invertita. Quindi la posizione che andrò a assumere sarà tendenzialmente o piatta o leggermente incurvata in questo modo. La provo prima in ginocchio, perché ripeterla a gambe distese in posizione di plank in questo modo può non essere così semplice, soprattutto le prime volte. Quindi non voglio che la schiena collassi in questo modo assolutamente, voglio che sia dritta, o addirittura che il pube tenda ad avvicinarsi allo sterno in questo modo. E cerco di fare un 3-4 serie da una trentina o 45 secondi. Un secondo esercizio che mi piace è quello di tenuta addominale nel punto in cui questi cominciano a far fatica. Quando è che cominciano a far fatica? Beh, in questa posizione non ho nessun problema a tenere la schiena completamente appoggiata. Mentre, più vado giù e più ho difficoltà a tenere la schiena completamente, i miei addominali hanno difficoltà a tenere la schiena completamente appoggiata al pavimento. Quindi, vado appena appena giù, quando la schiena comincia a staccarsi cerco di schiacciare la schiena contro il pavimento, senza inarcare il collo, senza inarcare le spalle. E mantengo in questa posizione. Questo è un punto in cui i miei addominali fanno fatica rispetto allo psoas, che è un muscolo che tende a tirare avanti la colonna vertebrale. Quindi quello è un punto buono in cui lavorare. 30-45 secondi in quella posizione, che poi di mano in mano e di allenamento in allenamento sarà sempre più bassa. E un'altra cosa che a mio avviso può risultare molto utile, poi naturalmente le scuole sono tantissime, ci sono tantissime possibilità di affrontare lo stesso problema e fondamentalmente bisogna trovare soltanto quella più adatta a sé, però è quella di allentare la tensione della muscolatura davanti, ma non con un allungamento diretto che forse potrebbe sollecitare un po' troppo la colonna, ma in questo modo. La respirazione diaframmatica, che è un po' la base della riabilitazione di tutta la colonna vertebrale, già vista in molti miei video, fondamentalmente la respirazione di pancia. Vado a farla in una posizione, per esempio con le gambe un po' più allungate, in cui ho difficoltà a tenere la schiena schiacciata. Schiaccio la schiena in una posizione in cui ho un po' di difficoltà e da qui mantengo una trentina di respirazioni. In questo modo ho fatto una sorta di stretching attivo del diaframma, che anche lui è un muscolo che tende a tirare in avanti la colonna a situazioni in cui siamo più favorevoli a uno scivolamento anteriore. Quindi questi sono tre esercizi semplici che si possono fare in caso di spondiloli stesi. Ci sono tante altre cose che si possono fare e variano un pochino da soggetto a soggetto. Se vuoi avere le idee un po' più chiare o vai sul mio sito l'altrareabilitazione.it, ci sono molte informazioni a riguardo, oppure meglio ancora scarichi la versione dimostrativa della mia guida a mal di schiena passo dopo passo. In questo momento è disponibile in forma assolutamente gratuita, non ha una sezione ancora dedicata alla spondiloli stesi, ma ce l'avrà molto presto, quindi nel momento in cui ce l'avrà ci saranno degli esercizi e dei test specifici per trovare gli esercizi migliori e più adatti al tuo caso. Per qualsiasi cosa mi trovi sul mio sito l'altrareabilitazione.it, pagina contatti. Ciao e alla prossima!